Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio sulla A1 in direzione Roma. Rallentamenti per un veicolo in avaria segnalato tra Valdarno e Arezzo. Pino al 13 marzo è chiusa per lavori l'entrata di Firenze Sud. Su raccordo autostradale Siena-Firenze, restringimento di carreggiata in corrispondenza dei viadotti Filinelle e Molinuzzo tra Poggi Bonzi e Tavarnelle. Su raccordo Siena-Bettolle per lavori, restringimento di carreggiata all'altezza di Castelnuovo Berardenga, chiuso in entrate uscita lo svincolo di Colonna del Grillo in direzione Siena. Infine i traghetti, a causa delle avverse condizioni meteo, i collegamenti per le isole subiranno cancellazioni. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.